Da dieci anni soffro di mal di testa e mi accorgo che ho un dolore che parte da più giù dalla spalla sinistra, con l'antidolorifico migliora ma non scompare, mi sento meglio con un cerotto caldo e vorrei stare immobile. Queste sono le parole di Alessandra, una donna che mi ha contattata tempo fa per una sessione, visto che si è resa conto che dietro quel mal di testa che torna e ritorna c'è molto altro. Se hai ascoltato il mio podcast sul mal di testa avrai già focalizzato che dipende come ogni sintomo da un preciso sentito biologico, ossia dal significato che ogni persona che è unica nel suo sentire dà alle situazioni che vive. Poiché la precisione in questo campo è un po' la bussola che ci guida, posso dirti che il mal di testa di Alessandra, così come lo descrive, non è uguale al mal di testa di quella cliente nella quale parlo nel podcast e se non l'hai ascoltato ti metto il link nel primo commento. Lei mi dice, io sento che il dolore parte da più giù, toccandosi il collo, posteriormente verso la spalla, se mi tocco lì mi fa male, poi il dolore sale e lo sento anche in testa a sinistra. Dopo averle fatto una serie di domande capisco che si tratta di una delle prime vertebre dorsali e per verificare le dico di chi porti il peso del destino di chi ti stai occupando. Lei a questo punto inizia a piangere e dice solo mio fratello maggiore. Allora decido di facilitare una induzione interiore, una meditazione, conducendola a visualizzare questo fratello. E le dico che senti? E lei mi dice tanta tristezza, perché attualmente non c'è un rapporto tra di noi. Certo, le dico, perché tu non sei al tuo posto, ti stai occupando di lui, del suo destino. Come mai? Mi sento in colpa, lei dice, perché io sto avendo tanto successo nella vita, invece lui non sta bene e insoddisfatto non riesce a realizzarsi. Quando mio padre è morto dieci anni fa, gli ho promesso che mi sarei presa cura di lui. Quindi questo sacrificio d'amore dura da dieci anni, che è il tempo esatto del suo mal di testa. Lui è il fratello maggiore, tu sei la piccola. Invece lo senti come un figlio da proteggere, le faccio notare. E di fatti hai dolore sulla sinistra, lato che per una destrimane corrisponde a madre e figlio. Quindi lei annuisce, ancora piange e quindi io le chiedo se è disponibile a cambiare questa percezione. E a dirgli, caro fratello, torno al mio posto. Io sono la sorella minore e non posso più farmi carico del tuo destino, della tua tristezza e della tua infelicità. Adesso fai un passo verso di lui e dimmi com'è, le dicono. E lei mi dice, io voglio abbracciarlo e restare tra le sue braccia come quando eravamo piccoli. Qualche tempo dopo questo lavoro, lei mi scrive e mi dice che il dolore, questo dolore che lei aveva da dieci anni, è sparito completamente. Quindi da questo vediamo che davvero solo l'amore cura, solo un movimento profondo interiore della nostra anima è in grado di farci davvero spostare da quella percezione così profonda che abbiamo. Ti ringrazio del tuo ascolto e del tuo tempo e al prossimo video.